bentornati ragazzi sono giovanni e oggi sono qui con un nuovo video ecco vi voglio leggere questo comunicato rilasciato due giorni fa dagli irriducibili lazio che sarebbero praticamente i tifosi della lazio ecco diciamo gli hooligans laziali ecco gli hooligans italiani chiamiamoli così e vi leggerò brevemente il comunicato e poi ne parleremo insieme come sempre fiorentina torino milan juve cagliari senza contare le partite portate a casa comunque nonostante clamorosi errori tra cui spalle e sandorie ogni lunedì siamo costretti a fare i conti con episodi arbitrali al nostro sfavore vorremmo occuparci di altro ma di fronte ad un palese insulto alla nostra intelligenza non possiamo restare a guardare per non essere complici di questi squalli di quanto miserabili giochetti di potere l'appuntamento è per domenica 18 marzo ore 18 a via allegri sotto la federazione sit in di protesta contro una gestione del gioco calcio della stessa classe arbitrale ridicole e poco chiara come tanti anni fa quando ci prendemmo uno scudetto a difesa della lazio per prenderci un posto in champions che ci spetta adesso è momento di far ricordare a loro signori chi sono i tifosi della lazio firmato appunto irriducibili lazio allora ragazzi che cosa ne penso io non sono d'accordo ragazzi non sono d'accordo perché semplicemente non credo ai complotti non credo ai complotti non credo che ci sia un complotto e continuo ad odiare questo nuovo taglio a parte che non credevo neanche il calciopoli quindi sono l'ultima persona con cui parlare di queste cose comunque io l'ho detto io non credo ai complotti però capisco la stanchezza dei tifosi della lazio capisco la stanchezza di così la lazio perché sinceramente anche io sono molto stanco anch'io sono molto stanco di fare le live reaction ogni settimana davanti a migliaia di persone ed essere costantemente deluso e o incazzato perché ci sono degli episodi arbitrali a sfavore della della mia lazio quasi ogni settimana contro di noi quest'anno il milano ha giocato a pallavolo la juventus ha giocato a karate il torino invece ha giocato 18 contro 10 quindi stranamente tutto iniziato dopo che la lazio ha ottenuto sette vittorie consecutive tre campionate coppa e appunto ha iniziato a lottare per la champions league stranamente questi episodi arbitrali sfavorevoli sono partiti diciamo dopo che la lazio ha ottenuto quelle vittorie consecutive ecco però io ve l'ho detto ragazzi non credo a un complotto non credo a un complotto non credo ai complotti credo invece all'incapacità degli arbitri credo all'incapacità degli arbitri perché ce l'abbiamo soltanto in italia negli altri campionati non succede nulla di tutto questo in bundesliga nella liga in premier league non ci sono mai proteste nei confronti degli arbitri qui in premier league per esempio qui in inghilterra non si parla mai di episodi arbitrali a sfavore si parla sempre dei meriti e dei demeriti di una squadra o dei meriti e dei demeriti di un'altra squadra si parla di calcio qui in inghilterra qui in inghilterra si parla di calcio mentre invece in italia non ci riusciamo e di chi è la colpa la colpa è di quegli incapaci degli arbitri che ogni settimana si inventano qualcosa si inventano qualcosa non necessariamente contro la lazio ma anche mi vengono da pensare un sacco di partite come roma inter genoa juventus torino chievo sandoria sassuolo e me ne vengono in mente molte altre guarda se ve le dicessi tutte quante arriverai io arriverai un video di quindici minuti ragazzi però è tutto sull'incapacità degli arbitri questa protesta non non cambierà nulla non non servirà nulla ragazzi questa protesta non non è inutile completamente inutile io se fossi a roma in questo momento non mi unirei al diciamo al alla protesta di all'aziali ecco non mi unirei perché è inutile in mia opinione è inutile tra l'altro è una protesta che è una situazione diciamo che ci riporta indietro alla stagione 1999 2000 quando la lazio stava lottando per lo scudetto insieme alla juventus e ci fu juventus parma penuti al giorno del campionato con un gol del parma all'ultimo minuto che avrebbe pareggiato i conti un gol annullato per un motivo che ancora non si capisce c'è annullato senza motivo senza senso annullato senza senso dopo 19 anni ancora non sono riuscito a capire perché l'arbitro annullò quel gol però appunto dopo quella partita ci furono le proteste i laziali andarono a protestare sotto la federazione e alla fine la lazio vinse lo scudetto perché la juventus andò a perdere a perugia nell'ultima giornata di campionato ecco però sicuramente non quella protesta non serviva un cacchio non serviva un cacchio però ragazzi questo non toglie il fatto che io sia molto stanco io davvero io sono molto stanco sono molto stanco perché voglio vedere voglio vedere è vero che la lazio comunque non sta sfornando prestazioni ottime questo è vero però vorrei vorrei che la mia lazio perdesse per demeriti suoi per demeriti suoi e non per episodi arbitrali imbarazzanti cioè non questo voglio vedere calcio io voglio vedere calcio voglio vedere calcio perché amo il calcio e voglio vedere il calcio giocato non voglio vedere partite condizionate da quegli uomini vestiti di giallo perché loro non sono lì per condizionare partite ma bensì per ragazzi se loro devono essere la legge devono essere la legge e sbagliano anche davanti a un televisore questa è una cosa inaccettabile ma dite voi cosa pensate ragazzi nei commenti mettete un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e noi ci vediamo nei prossimi video ciao